Parliamo di animali, in particolare di gatti, con Evi Mibelli, che è volontaria dell'Ente Nazionale di Protezione Animali, sezione dell'Isola d'Elba, che ha curato un progetto che si chiama Elba for Cats. Una premessa, il problema che purtroppo stiamo affrontando oggi è il numero dei gatti all'Elba, che è esponenzialmente alto rispetto alle potenzialità del territorio, si parla di 320 colonie, quasi 2000 gatti ufficialmente presenti. Intanto, il progetto in cosa è consistito? Il progetto è consistito nel portare avanti una piccola campagna di raccolta a fondo che ci consentisse di intervenire nel periodo invernale, che è un periodo di fermo demografico, su 60 gatti, in modo da prevenire quello che sarebbe stata l'esplosione demografica nel periodo primaverile. Tenete conto che su 60 gatti, almeno di quelli che abbiamo sterilizzati, sono oltre 40 femmine, e questo avrebbe significato nel periodo di maggio la nascita di almeno 150-160 cuccioli, con tutti i problemi che si sono connessi, quindi problemi di maltrattamento, di abbandono, di malattie, e di ulteriore crescita demografica in previsione nei sei mesi successivi. Quindi un problema che va affrontato in maniera razionale e mirata affinché questi problemi vengano risolti a monte e non dopo, quando l'emergenza ormai è incontenibile. Come si è articolato il vostro progetto? Allora, il progetto si è articolato in questo modo. Abbiamo fatto partire la raccolta fondi a dicembre, fino al mese di febbraio, per una cifra complessiva che doveva essere di 3.000 euro, poi in realtà ci siamo affermati a 2.400 euro e in corso d'opera, in corso di raccolta fondi, abbiamo siglato questa convenzione con il veterinario applicando le tariffe che sono state applicate a suo tempo nella convenzione tra ASLE e Libre Professioniste, che è stato il punto di partenza due anni fa di una sterilizzazione di oltre 600 gatti su tutta l'isola, grazie appunto ad aver fatto noi da tramite tra l'ordine veterinari e l'ASLE provinciale e dato che non è stata rinnovata quest'anno abbiamo ritenuto opportuno che fosse il caso di intervenire noi con questa raccolta fondi. Siamo riuscite nell'intento, abbiamo portato a casa i soldi che ci occorrevano, a parte abbiamo sostenuto le spese di presidi sanitari che normalmente non vengono previsti dall'ASLE che sono gli antibiotici lungori rascio, l'argento colloidale per le ferite, per la migliore cicatrizzazione, gli antiparassitari che ci sono stati peraltro donati da un'azienda che ha sostenuto il nostro progetto che è la Formevet. Una cosa molto importante abbiamo fatto anche a campioni dei test sulle malattie infettive che colpiscono le colonie feline normalmente, quindi abbiamo anche fatto una mappatura poi delle situazioni a rischio sul territorio dove siamo intervenuti, che sono stati Portazzurro, Marina di Campo, la zona di Marciana, Procchio, abbiamo lavorato quasi complessivamente sull'area occidentale e abbiamo individuato alcuni punti critici dove poi appunto la presenza di queste malattie possono essere veicoli per animali di proprietà, la possibilità che questi vengano infetti perché magari vengano a contatto. Quindi è un modo anche per avvertire la popolazione che ha un possesso animale di intervenire sanitariamente affinché i loro animali non debbano prendere queste malattie che sono mortali peraltro. Questo progetto al di là degli scopi e dei risultati che hai raggiunto ha dato un messaggio forte soprattutto ai proprietari di animali, anche se dobbiamo sottolineare che il fenomeno dell'andagismo è ancora molto diffuso in questo momento sul territorio. Sì, diciamo che questa campagna aveva lo scopo di sensibilizzare le persone non tanto sull'emergenza quando l'animale sta male per cui è più facile raccogliere fondi perché la persona viene coinvolta dal punto di vista emotivo, ma far capire che per evitare questo tipo di conseguenze di situazione era fondamentale invece pensare in termini di prevenzione. Questo significa anche che i proprietari devono avere coscienza che i loro animali che circola intero è uno degli elementi portanti della continua nascita di nuovi soggetti che poi saranno ovviamente randaggi. Quindi la coscienza da parte del proprietario è quella di intervenire, cioè fare quello che normalmente dovrebbe essere fatto, sterilizzare il proprio animale. Non gli si fa niente di male, l'animale vive benissimo e spesso e volentieri vive meglio e lontano dai pericoli, perché ad esempio un gatto non castrato maschio migra nel momento in cui non trova le femmine e spesso e volentieri poi è vittima di incidenti, viene investito o si perde. Avete predisposto anche una rendicontazione del progetto una volta concluso? Assolutamente sì. Diciamo che in corso d'opera ogni volta che entravano dei fondi da parte dei donatori noi abbiamo periodicamente pubblicato le liste dei donatori con le sigle ovviamente per una questione di privacy ma con gli importi che sono entrati nel conto corrente in Paesola d'Elba, anche perché noi tracciamo tutto, in modo tale che ogni donatore fosse consapevole che la propria cifra era stata rendicontata correttamente. Non solo, ma a fine progetto, infatti è una questione di giorni, pubblicheremo la fattura di saldo al veterinario con il bonifico, il tracciamento del bonifico in modo tale che i donatori sanno che i soldi che ci sono stati donati sono stati correttamente spesi per la finalità del progetto. Aggiungo in chiusura un ringraziamento anche alla Silver Air che ci ha sostenuto in questo progetto che è molto importante ed è una delle aziende del territorio, Elba Web Design che ci ha curato la piattaforma di donazione, Elba My Love perché è il portale che in qualche modo ci ha fatto un po' da cassa di risonanza e l'azienda ricola, quella delle caramelle, che è da sempre molto attenta alle tematiche animali, poi sono di estrazione svizzera e loro per l'esterilizzazione hanno veramente un grande culto per cui quando abbiamo presentato il progetto hanno deciso di sostenercelo. Dopo aver fatto il punto su questa bella iniziativa dell'Enternazionale di Protezione Animali non possiamo non allargare il discorso a quella che è la realtà elbana e non legata soltanto alla presenza dei gatti sul territorio. Si parla di un canile gattile che potrebbe essere realizzato. Avrebbe veramente un'utilità questa struttura, sempre ammesso che riesca a vedere la luce un giorno o l'altro? Allora io parlo a questo punto a titolo personale quindi non come EMPA, io ritengo che sia assolutamente necessaria la presenza di una struttura canile dove poter ricoverare gli animali che vengono rivenuti sul territorio perché l'assenza totale di qualsiasi luogo di ricovero crea notevoli problemi di gestione dell'emergenza al momento. Sul fatto di essere un canile in senso stanziale qualche perplessità ce l'ho, più che altro perché diventerà come spesso accade anche nei canili fuori isola, ricettacoli di animali che vengono o lasciati perché anziani o malati o altre cose a parte i cuccioli che vanno via più facilmente, diciamo diventa una sorta di ospizio di animali e considerate anche le possibilità di adozione che ci sono sull'isola una volta che hai saturato il mercato diventa difficile piazzarle quindi bisogna comunque pensare al fuori. Quindi l'idea di avere magari una struttura canile qua di emergenza sicuramente può funzionare direi che forse una convenzione su canini anche più vicini non come quello di San Giovanni Valdana che è ottimo, molto bello ma sicuramente molto lontano magari più vicini possa dare maggiore possibilità a questi animali di poter trovare una collocazione in famiglia perché il territorio è sicuramente più ampio dove poter attingere persone interessate all'aduzione. Le considerazioni sono importanti e che sarà bene che vengano tenute di conto da chi dovrà gestire questa struttura. Grazie a Evi e grazie all'EMPA per tutto quello che sta facendo sul territorio. Grazie mille a voi.